Sì? Dai, tieni il telefono. Buongiorno. Buonasera a tutti. Abbiamo preso la sfida del nostro amico Ciccio Massimo Francioso e siamo qua a Molasana e cominciamo a correre. Nominiamo per la sfida della corsetta due icone del calcio dilettantistico. Una per distorierlo dal suo nuovo lavoro da allenatore in modo tale che magari perda un po' di concentrazione e non ammazzi il campionato e che andrà di somma. Il secondo è il nostro Fabrizio Barsacchi che essendo un'icona del nostro Molasana ed essendo un po' adattato dovrà allenarsi molto di più per riuscire a salvare il Molasana. Da Molasana vi salutiamo. Buona serata a tutti e alla prossima. 15 giri fatti. Ottima forma. Ciao ciao.